Oggi vi presento un altro piano della nostra casa della relazione solida, quindi stiamo andando sempre più in alto, siamo partiti dalle fondamenta, adesso stiamo andando nei piani più alti. Questo piano riguarda l'andare incontro al nostro partner, quindi al posto che voltare le spalle ma girarsi verso di lui quando ci chiede una connessione emotiva. Cosa significa? Che è ovvio che nella quotidianità di tutti noi ci siano momenti positivi e momenti negativi. Ognuno di noi, anche non legato al partner, sperimenta nella quotidianità magari un piccolo momento di stress, di rabbia, di nervosismo, oppure questo può anche essere legato ad un piccolo conflitto, una piccola discussione all'interno della coppia. Ecco che quindi si generano dei tentativi di riparazione, si dice, quindi di connessione verso l'altro per poter riparare quella piccola frattura che si è creata. È importante riconoscere la riparazione che il nostro partner prova a fare rispetto a questo nostro momento di stress.